bentornati nel mio canale oggi un ciambellone soffice a cacao senza accendere il forno qui è scoppiata l'estate come misurino userò un vasetto vuoto di yogurt da 125 grammi in una ciotola mescolate un vasetto di latte un vasetto di yogurt bianco 3 uova e un vasetto di olio di mais mescolate con le fruste ora in un'altra ciotola mescolate gli ingredienti secchi due vasetti di zucchero quattro vasetti e mezzo di farina 00 mezzo vasetto di cacao una bustina di lievito e un pizzico di sale aggiungiamo le polveri all'impasto liquido affinché siano ben amalgamati intanto mettiamo lo spargifiamma sul fornello medio e lo facciamo riscaldare per un minuto due versiamo il composto nel fornetto imburrato e infarinato da 24 cm io vado ad imburrare anche il coperchio in cottura il burro si scioglierà ricadendo sul dolce e conferendogli così un sapore tutto particolare porre il fornetto sullo spargifiamma e cuocere 3 minuti a fiamma alta e poi abbassare al minimo per 60, cuocere per 60-65 minuti spero che anche questa ricetta vi sia piaciuta lasciatemi un like e un commento e continuate a seguirmi ciao